Il Presidente della Repubblica, Torino. Il Piano Sanitario licenziato dalla Commissione. Vade Mecum per il bilancio di genere. Il Taccuino. La seduta del Consiglio regionale del mattino dell'8 marzo si è aperta con la commemorazione dell'Avvocato Gaetano Maiorino, ex consigliere regionale, deciduto lo scorso 6 gennaio. L'Aula ha poi proseguito con la surroga del consigliere dimissionario Raffaele Costa con l'assessore al commercio William Casoni, primo dei non eletti nella lista PDL della provincia di Cuneo. Al termine dei lavori il Presidente del Consiglio Valerio Cattaneo, l'assessore agli enti locali Elena Maccanti e alcuni consiglieri hanno ricevuto una delegazione sindacale di lavoratori dell'IPLA, l'Istituto per le piante da legno e l'ambiente. La delegazione ha manifestato preoccupazione per il futuro dell'ente, ma le istituzioni intervenute hanno assicurato la massima attenzione per ridefinire il ruolo dell'IPLA nel quadro della riorganizzazione delle società partecipate.